E' mancato un pizzico di fortuna alle tre penne per poter scrivere un'altra pagina di storia del calcio sanmarinese. Nella sfida di ritorno del preliminare di Champions League, i gallesi delle New Saints confermano lo stesso 11 della gara d'andata. Nel tre penne sono tre le novità e tutte a centrocampo, Alex Gasperoni, Mirko Palazzi e Nicola Chiaruzzi. Si comincia con un tentativo velleitario di Agostinelli. Migani è attento su alcuni timidi affondi gallesi, poi è fortunato quando Klesevic si beve mezza difesa sanmarinese ma non trova lo specchio della porta. La gara ed anche la qualificazione si decide a cavallo del riposo, minuto 44. Prima Capicchioni e poi Chiaruzzi non riescono ad allontanare un pallone che finisce sui piedi di Quigli. L'attaccante gallese sottomisura non perdona. Il gol pesa come un macigno sui campioni sanmarinesi e al ritorno in campo arriva immediato il raddoppio. Migani non è impeccabile in uscita e la pallone carambola sul corpo di Edwards per il 2-0. Il tre penne sbanda, Quigli ne contropiede, Migani si oppone. Si vede anche la squadra di Protti, merendino dalla sinistra per la girata di Gasperoni ad un soffio dall'incrocio dei pali. La palla a gol più clamorosa capita sui piedi di Agostinelli. Harrison con la punta delle dita si salva in angolo. Sulla versante opposto provvidenziale l'uscita di Migani, sull'esolito Quigli ci prova anche Calzolari. Bene la potenza, non la precisione. Ad un minuto dal novantesimo i galesi arrotondano il risultato con un preciso diagonale del nuovo entrato Drapper. Un 3-0 troppo severo per un tre penne che vede sfumare il sogno qualificazione, ma che esce tra gli applausi convinti del San Marino Stadium.